benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video oggi siamo qui come vedete in un nuovo video dedicato al rotto oscar oggi parliamo di un film disney che fa parte di quei film denominati live action all'interno dell'enorme produzione disney a cui stiamo assistendo in questo periodo stiamo parlando di crudelia un film che ha fatto discutere molti non è piaciuto a tanti diciamo che molti si chiedono il perché sia qui onestamente parlando però a me non è dispiaciuto crudelia non è sicuramente il miglior live action che ha fatto disney non è sicuramente il miglior film che ha fatto disney però è un film che io ho apprezzato tanto mi è piaciuto soprattutto grazie a un emma stone che a mio avviso è sempre bravissima qualsiasi cosa faccia è entrata perfettamente nel personaggio di crudelia ma poi anche perché comunque riesce a raccontarti di un personaggio e le sue origini e lo riesce a fare abbastanza bene a mio avviso in generale la cosa che spiccono in crudelia ovviamente sono il trucco e i costumi e infatti è candidata proprio in miglior trucco e migliori costumi sicuramente ha una chance anzi è quasi sicuro che si porti a casa migliori costumi perché ci sono dei costumi che sono veramente incredibili quel film ha come caratteristica avere dei costumi veramente veramente fatti bene magari il trucco non lo vince perché ha dei competitor importanti ma i costumi penso che se non lo vince nonostante ci sia chi non ha apprezzato il film un po tutti ci incazziamo diciamo diciamo ma in che senso deve vincere deve vincere i migliori costumi comunque per quanto riguarda crudelia è tutto vi ho detto poco perché effettivamente c'era poco da dire è un film che a molti non è piaciuto a me onestamente è piaciuto perché comunque funzionava niente niente io vi saluto vi ringrazio vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di attivare la campanella e di seguirmi su instagram trovate il link in descrizione ciao a tutti ciao ciao ciao